Cari fratelli e sorelle San Bruno, di cui celebriamo oggi la memoria, invitandoci a trovare nelle nostre giornate spazi di silenzio, vuole indicarci la strada per rigenerare le nostre forze, il nostro entusiasmo, la nostra voglia di vivere, ripristinando per così dire la connessione con Dio, che è il potere di far svanire ogni preoccupazione trasformando i nostri problemi opportunità, le nostre fragilità in manifestazioni della sua potenza e i fallimenti in vittorie, perché con Dio vinciamo anche, vorrei dire, soprattutto quando perdiamo.